Una raffica di ingiunzioni alle demolizioni è stata fatta notificare dal Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Licata ad una decina di proprietari di immobili costruiti senza licenza edilizia e senza la possibilità di sanare gli abusi. Gli immobili da abbattere sono stati costruiti negli anni nella costa licatese, anche nel perimetro che rientra nei 150 metri dalla Battigia, dove vige il vincolo più assoluto di edificare. La maggior parte dei manufatti, che verranno demoliti dal Consorzio Compact di Roma, che ha vinto la terza gara indetta dal Comune di Licata e che per i prossimi due anni si occuperà dei cantieri per gli abbattimenti, si trova nella zona della Rocca, ma ce ne sono altre al Pisciotto, a Torre di Gaffe e alla Playa. Ai proprietari è stato segnato un termine per poter demolire autonomamente quanto realizzato senza autorizzazione. Se non lo faranno di propria e spontanea volontà, a questo punto saranno azionate le ruspe della ditta Compact e successivamente verranno addebitate le spese per le demolizioni agli stessi ex proprietari. Oltre a demolire villini abusivi, il Comune si possesserà del terreno in cui verranno messi in pristino i luoghi e inoltre saranno applicate a carico degli ex proprietari sanzioni che vanno da 4.000 a 20.000 euro. Intanto a settembre si conferma ancora il record per quanto riguarda l'abusivismo edilizio. Il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune ha firmato altre due ingiunzioni di demolizione e così diventano 9 in 30 giorni le ordinanze per l'abbattimento delle case disposte dal lente. Ciò a testimonianza del fatto che evidentemente il cemento selvaggio in una città come Licata non si concede mai alcuna pausa. Gli ultimi due provvedimenti sono stati notificati ai proprietari degli immobili abusivi, i quali ora hanno 90 giorni di tempo per demolire quanto costruito in assenza di concessione edilizia. Se non lo faranno, i loro edifici verranno acquisiti al patrimonio dell'ente dovrà essere successivamente il Comune a farsi carico delle demolizioni rivalendose sugli ex proprietari con riguardo alle spese sostenute. In tutto l'anno 2017 le ordinanze di demolizione firmate dall'urbanistica erano state una cinquantina circa. Il pugno duro della squadra anti-abusivismo della Polizia Municipale sembrava aver scoraggiato quei cittadini che nonostante la lotta serrata al cemento selvaggio culminata con l'azione delle ruspe che stanno demolendo i villini realizzati senza licenza edilizia continuano a costruire manufatti in assenza di autorizzazione o indiformità rispetto a quanto autorizzato dal competente ufficio tecnico. Il fenomeno però non sfugge alla Polizia Municipale che ha messo in campo una squadra anti-abusivismo che ogni giorno controlla il territorio da cima a fondo e questa attività fa il paio con le ruspe che stanno abbattendo i villini abusivi costruiti nella fascia costiera a meno di 150 metri dalla battigia dove vige il divieto più assoluto di edificare dal 2016 ad oggi tra demolizioni autonome e quelle effettuate dalla ditta patriarca di Comiso prima e la costruendo di Messina dopo sono in tutto 170 e i villini rasi al suolo l'elenco conta in tutto 219 immobili da demolire.